Ultrasi, giallo-blu No, 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 tifosi per cortesia, lasciamo stare quella parola, quell'appomiglio, lasciamolo lì, noi della pallavolo abbiamo i tifosi, supporters, scusami l'informazione, sto entrando ora, lasciando l'axo domino a te il microfono Allora Fido è in campo, ultrasi in senso positivo, perché è una viva ora delle tifoserie, sicuramente più grande, appassionante, comunque sportiva C'è scritto fedelissimi Urbino E allora i fedelissimi, giallo-blu, con l'alzo di Toriangolo, mentre le squadre si stanno schierando Grazie